L'Acqua Village di Follonica è parco acquatico dell'anno. Il premio, l'Oscar del settore del divertimento italiano, è stato assegnato nel corso della 22esima edizione del Parksmania Awards, evento organizzato dalla testata giornalistica Parksmania.it e dedicato ai parchi di divertimento italiani ed europei, che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore del divertimento. 23 anni di lavoro e di presenza a Follonica abbiamo fatto un percorso pieno di difficoltà, pieno di inciampi, pieno di errori, ma siamo ora ad oggi ad essere nominato Parco Acquatico Italiano del 2023. Questi sforzi e questo riconoscimento sono frutto di tutto il lavoro del team di Acqua Village, perché io considero e continuo a dire che Acqua Village è una grande famiglia. Cosa vedremo nel 2024? Ci saranno novità? Abbiamo già iniziato i lavori per creare una nuova zona con nuove attrazioni, sempre a cultura tichi. È una presenza storica, anche piccola rispetto a grandi parchi che esistono in tutta Italia, ma dimostra come appunto puntando sulla qualità si riesce ad eccellere ed è un elemento di diversificazione dell'offerta turistica in Maremma. È sicuramente un risultato importante, ma è davvero solo una tappa di un percorso di crescita. Hanno avuto la capacità di investire in momenti complicati e di investire non semplicemente sulle cose, sull'oggetto Parco, che pure è cresciuto e continuerà a crescere anche in una nuova attrazione nel 2024, ma anche e soprattutto sulle persone.